... Con il numero 19, il capitano Leao, con il numero 22, Matteo, con il numero 63, Patrini, con il numero 68, Riccardo, e con il numero 79, Fred, a disposizione il Milan, con il numero 30, Marto, il numero 90, Antonio, con il numero 2, Davide, e con il numero 7, per la mia volta, Sonsio, Riccardo, con il numero 23, numero 13, adesso, 17, Cristian, numero 20, Inizio, numero 21, Lucas, numero 31, Lucas, per il numero 46, Matteo, e con il numero 73, Manuè, Camelli, e un pelatore Vincenzo, Mochella, Buongiorno! Buongiorno! Buongiorno!